Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su Aller Channel. Video dei prodotti finiti. Se siete curiosi di sapere che cosa ne penso di tutti questi prodotti, ovviamente non vi rimane che guardare questo video, ma prima lasciatemi un bel like di supporto e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Aller Channel. Io vi ringrazio tantissimo e vi aspetto dopo la sigla. Oh, bentornati, bentornate. Io non so veramente come girarmi. In questo caso ho finito un pochettino di cose e quindi volevo parlare con voi soprattutto di alcuni prodotti di cui mi interessa, insomma, darvi un feedback un po' più approfondito. Allora, io partirei dai prodotti di cui, insomma, ci interessa un po' di meno. Del tipo, ho finito questo sapone Neutro Robert al dolcente alla vaniglia, 10 elode il profumo, perché è pazzesco, mi piace tantissimo, mi lascia le mani molto morbide, qua c'è scritto senza parabeni, un iconeo che mi sembra che man mano utilizzandolo il profumo sia un po' svanito e mi dispiace molto perché mi piace proprio tanto il profumo di questo addolcente alla vaniglia. Seconda cosa finita, in realtà ne ho finiti ben due, nel senso che uno era nella borsa della palestra e l'altro era in bagno. Tutti e due finiti, non sto a scavarli perché non ce la faccio e anzi uno mi sa che è già bello scavato. Praticamente sono i deodoranti in stick, Derma Zero di Neutro Roberts. Di questi, molte di voi mi hanno chiesto, perché un problemino di noi donnine è che quando ci viene il ciclo e quindi ci sono gli ormoni che vanno un pochettino a farsi friggere, vanno a far festa, diciamo così, l'odore del sudore diventa più importante. In alcune, magari altre non hanno questo problema. Io ho questo problema che si sente di più e soprattutto io me lo sento di più. Magari per dire Mr. X non me lo sente, dice no, io non sento niente, ma io invece me lo sento e mi dà molto molto fastidio. Questo assolutamente, non so come dire, non mi fa puzzare, ve lo dico così com'è. Mettere questo, ovviamente io prima mi lavo, perché non si mette mai il deodorante se non ci si è lavati, prima mi lavo, poi utilizzo questo deodorante e quantomeno riesco a stare tutta la giornata senza puzzare, nonostante io sia in periodo magari ciclo. Sono già andata a ricomprarlo, per cui è inutile che... Vi avevo detto che avrei parlato dei dentifrici ancora, allora sto utilizzando questo di Parodontax. Diciamo che il mio dentista, sapendo che io amo i dentifrici salini, me ne ha dato una scatola intera di questi qua piccolini. Ne sto finendo uno via l'altro, perché effettivamente a me piace. Non sono sbiancanti, non hanno quell'effetto sbiancante che dicono tanti dentifrici, anche se secondo me gli effetti sbiancanti dei dentifrici sono un pochettino farlocchi, sono proprio effetti ottici e basta. È salino, per cui è salato, cioè il gusto sì, è molto fresco, anzi è talmente fresco che se non siete abituati vi può dar fastidio, però è salato, tende al salato, non al dolce. A me piace tantissimo, andrò avanti non solo ad utilizzare quelli che mi ha dato il mio dentista, ma probabilmente andrò anche a ricomprarlo una volta finiti, perché mi piace veramente tanto. Mi dà senso di denti puliti, freschezza proprio all'interno del cavorale. Super promosso. Ho finito due creme di De La Rome, ve ne ho parlato molto spesso anche di queste creme. Allora, a parte il profumo, che io sono addicted, perché sono profumi tutti naturali, sono ingredienti tutti naturali, ma profumano veramente tanto tanto. Questa è la crema anti-age restrutturante. Mi sono trovata benissimo, ma si è trovato benissimo anche Mr. X, perché la stava utilizzando anche lui, infatti l'altra che aprirò la utilizzerà anche lui. E ho finito anche questa, che è la creme procellulaire edge resource. Praticamente è la creme procellulaire, questa poi ha un odore tipo che sembra di stare in spa, è una crema anti-aging, però sono molto ricche. Le creme di De La Rome sono innanzitutto fatte tutte a base di cose naturali, non hanno derivati del petrolio, non hanno siliconi, non hanno niente di tutte queste cose chimiche. La cosa bella è che se dicono di nutrire la pelle, la nutrono, se dicono di idratare, la idratano, e quindi quello che promettono lo fanno davvero. Io mi sono sempre trovata molto molto bene, con queste due in particolare, veramente forever and ever. Sono dei barattoloni, per cui a me durano tanto, e le uso insieme a Mr. X. Ho finito questo, che è un detergente intimo, non so quale utilizzate voi, io mi trovo bene con questo, che è di Neutromed, Dermodefense, e questo qui è quello ad azione anti-irritazione, ad alta tollerabilità. L'ho già ricomprato, ne ricompro anche altri, sempre della Neutromed, però magari anche tipo quello delicato così. Alla fin fine mi interessa che non alteri il pH, che non alteri la flora batterica della mucosa, e che non bruci assolutamente. Mi danno fastidio quelli troppo profumati, ma questi sono molto delicati, e quindi va bene. Due fondotinta, uno è questo Dermablend di Vichy, numero 15 Opal. L'ho dovuto addirittura aprire così, perché non ce n'era praticamente proprio più. Mi è dispiaciuto perché le ultime volte che l'ho utilizzato, non ha avuto la stessa resa di quando l'ho aperto. Probabilmente è un prodotto che, se appena appena va oltre il limite di scadenza, proprio non performa più come dovrebbe. Mi piace molto, avremo modo di parlare dei correttori, scusate, avremo modo di parlare dei fondotinta in un altro video specifico sui fondotinta, perché ne ho raccolti un po' e ve ne parlerò molto presto. In ogni caso vi anticipo che questo Dvichy, mi piace molto per quanto riguarda la coprenza e la texture. Il problema è che appesantisce un po' il viso, per cui se lo tenete su tanto tempo, alla fine della sera, vi regala qualche anno in più al posto di togliervelo. Per cui è un fondo che io non amo utilizzare quando sto fuori tutto il giorno per eventi o per lavoro. Magari lo utilizzo, ecco, quando devo star fuori solamente due ore, ecco, allora lì si so che rimane lì dove lo metto e sta. Ho finito anche questo di Fit Me di Maybelline, il numero 105, dico che l'ho finito nonostante non sia finito, perché non performa più. Cioè, questo qua, una volta era uno dei miei fondotinta preferiti in assoluto, adesso quando lo metto, un po' mi rimane macchie, un po' si spande, e si vede che praticamente ha fatto, ha fatto il suo tempo. E comunque appunto di fondotinta ve ne parlerò in un video dedicato, e ci saranno anche questi. Un altro prodotto di cui vi parlo spesso è questo di L'Oreal, è il Net Styling Spray, protezione calore, 230 gradi, lisci per tre giorni, questo qua è un prodotto che io continuo a ricomprare, oramai è oltre un anno che lo ricompro, secondo me protegge benissimo i capelli, e li lascia molto lisci e setosi. Ne finisco uno ogni trimestre, credo, perché io, va bene, non fono tantissimo i capelli, non li piace, cerco di piastrarli il meno possibile, però quando lo faccio mettere un protettore, che li protegga appunto dal calore, è la cosa migliore. Ultimi due prodotti, ma quelli di cui mi interessava un po' più parlarvi, sono questi, anzi tre prodotti. Di uno sono riuscita a mantenere la scatola, di un altro non ce l'ho, e di questo sì. Partiamo dagli integratori. Allora, gli integratori Bioscalin, io ho finito il terzo mese, questo mese qua, mi mancano tre pasticche, e poi avrò chiuso il terzo mese, dopo ovviamente tre mesi di trattamento e di integrazione, ci si ferma un attimino, prima di riprendere se è il caso. Come mi sono trovata? Allora, Bioscalin non è uno dei più tollerabili da parte dello stomaco, per cui io lo prendo la sera, prima di andare a dormire, in modo tale da non sentire la pesantezza nella digestione, e quindi così, quel problema lì, di cui mi chiedete in tanti, l'ho risolto. Funziona o non funziona? Per me funziona sì, lo vedo sui capelli, lo vedo sulle unghie, e lo vedo purtroppo anche sui peli, un piccolo effetto collaterale, però capelli e unghie assolutamente sì, le unghie non mi si spezzano più, e i capelli sono molto più voluminosi, sono più grossi, non posso dire che non mi si spezzano più, perché non mi si spezzavano neanche prima, però li vedo molto più grossi, come proprio stelo del capello, molto più corposo, molto più grosso, per cui, sinceramente, mi sento di approvarlo, quantomeno mi sento di approvarlo su di me, in abbinato alla dieta che faccio io, che è una dieta comunque a basso indice glicemico, e poco calorica, e soprattutto, se vedrò che ne avrò bisogno, tra tre mesi, riprenderò. Ora invece vi parlo delle fiale di keramine H, questa è la scatola delle keramine H urto, ma ho finito sia questa, che ormai ho finito anche l'altra, però non ho la scatola dell'altra, è quella avorio, se trovo la foto ve la metto qua. Allora, quelle azione d'urto, 10 elode, perché, oltre veramente a rinforzare tantissimo i capelli, a lasciarli comunque morbidi, setosi, a lasciare il cuoio capelluto bello pulito, oltre a profumare anche, non mi danno nessun fastidio. Mentre invece, le keramine H, quelle lì, con la confezione, con la banda avorio, che sono quelle non urto, quindi è il trattamento normale, e sono quelle da utilizzare prima del phon, per chi ha i capelli un po' sfibrati così, ni, nel senso che, allora, le fiale di per sé sono buone, il capello lo rendono, molto più grosso, lo senti proprio al tatto, fin dalla, dall'applicazione, il problema è che mi danno, veramente, noia per la piega, cioè non riesco a farla piega ai capelli, ad asciugarli, ci vuole il quadruplo del tempo, perché rimangono bagnati, soprattutto sulla cute, l'effetto è che, praticamente, gli dà più volume, quindi se avete bisogno di volume, quello effettivamente può essere un metodo, perché gli dà molto più volume, però ci vuole molto più tempo ad asciugarli, ma molto più tempo, ma molto molto più tempo, ad asciugarli, infatti non le porto più, quando vado in palestra, perché sennò devo stare, mezz'ora in palestra ad asciugarmi la testa, sennò, esco con la testa bagnata, quindi fa fatica ad asciugarsi, e poi faccio, molta più fatica a far la piega, cioè quando faccio la piega, quando tiro i capelli per far la piega, fa fatica, cioè fanno fatica a rimanere in piega, ecco, fanno fatica a rimanere, poco crespi, a lisciarsi, eccetera eccetera, per cui, non so, devo ancora capire, quanto il gioco valga la candela, perché se effettivamente, il potere rinforzante, è così tanto, allora vale la pena, insomma, sacrificare, un pochettino di tempo in più, un bel po', in realtà di tempo in più, per farsi la piega, per asciugarsi i capelli, se invece il potere, non è così tanto, preferisco magari, utilizzare queste qua, urto, un po' di meno, cioè nel senso, fare una fiala urto, alla settimana, al posto che due, barra tre fiale, e continuare con quelle urto, ecco, devo ancora decidere, se mantenere quelle, due volte alla settimana, oppure, una di queste, una volta alla settimana, come mantenimento, in ogni caso, questi erano tutti i prodotti, che ho finito in questo periodo, ci tenevo proprio a parlarvi, di queste fiale, e del Bioscaline, perché me lo state veramente, chiedendo in tantissimi, mi auguro che questo video, vi sia stato un po' utile, che le informazioni su questi prodotti, vi siano stati un po' utili, se è così, ovviamente, fatemelo sapere, con tanti, tanti like, per qualsiasi informazione aggiuntiva, c'è l'info box, all'interno del quale, vi lascio anche tutti i link diretti, se volete acquistare qualcuno di questi prodotti, i link diretti ovviamente che ho io, ma poi questi prodotti, li potete tranquillamente acquistare al Carrefour, piuttosto che in qualsiasi altro supermercato, acqua e sapone e quant'altro, in ogni caso, se avete qualsiasi domanda, sotto l'info box c'è la parte relativa ai commenti, aggiungete magari anche un cuoricino, se avete visto il video fino a questo punto, io vi ringrazio tantissimo, di essere stati con me fino alla fine di questo video, ma prima di salutarvi, vi chiedo di iscrivervi al canale, e attivare la campanellina, in modo tale da venire sempre aggiornati, sui video di Aller Channel, vi ringrazio ancora tantissimo, vi mando un mega bacio, e tantissimo, ma tantissimo amore. Grazie a tutti.